Ma si fa tanto fenomeni a pigliar per il culo la Juve, no? Ma si fa tanto fenomeni e siamo a più uno dai lecce, siamo ancora a meno due dall'Empoli, ma di che si ragiona? Di che cosa vuoi ragionare? Tu hai perso un casa contro i Bologna, ma di cosa vuoi ragionare? Mi amo. Ci è rimasto solo questo, di pigliar per il culo gente che poi viene penalizzata, sennò era 15 punti avanti a te. Ma ben via, ragazzi. Ma di che vuoi ragionare? Ma di che vuoi ragionare? E io te l'ho detto, guarda, ora, a tutti i grandi entusiasti che in semifinale ti è toccato alla Cremonese, guarda, stai attento alla Cremonese, stacci attento, perché intanto hanno buttato fuori Napoli e Roma. È vero, andata in ritorno, nella sfida secca potrebbe succedere qualsiasi cosa, andata in ritorno c'è più probabilità, ma stacci attento, stacci attento perché se tu giochi stasera e tu mi dirai, eh, ma secondo tempo sei avuto il 70% di possesso palla. Allora, ti garba alle statistiche? Guarda, te ne do un'altra. Non sei fatto 5 tiri in porta, 5, in tutta la partita, ok? Loro hanno fatti 7. Due, due, si sono fatti nel secondo tempo, quando non solo tu pareggiavi, ma poi tu sei andato anche a perdere, tu eri sotto, quindi te dovevi andare a raffica. Ma la dimostrazione, la dimostrazione di tutto, è pretendere di pensare che te tu eri già a posto così davanti e questo è semplicemente un pettinino, è un nodo che torna il pettinino, ok? Perché che te tu avevi un bisogno marcio di un attaccante vero, vero, non un mezzo attaccante barra seconda punta, barra trequartista, barra un so indomettelo? Tu lo sapevi da l'anno scorso, non da giugno, dall'anno scorso, da gennaio dell'anno scorso, però ragazzi, questo siamo, questi siamo, così non abbiamo voluto prendere nessun tipo di provvedimento a gennaio, quindi siamo andati a prendere Brecalo, ci sono due gente esterni, siamo andati a prendere Brecalo, ma mia perché ce l'ho con Brecalo, per l'amor di cielo. Poi Rino è anche entrato, si è visto anche abbastanza bene, è che una cosa ti serviva, una, una, che forse è la cosa più importante perché il calcio non è che tu lo vinci con il 70% di possesso palla, tu lo vinci con gol, ok? Il Bologna tra l'altro te ne ha fatti due, c'aveva mezza squadra fuori, figurati se c'era Arnautovic che è il giocatore dovevi prendere, perché poi sei infortunato, meno male tu l'hai preso, figurati se c'era uno come lui, dove si finiva. Ragazzi, ma ragazzi, ma ragazzi, ma si fa tre giorni, tre giorni prima si riesce a avere un sorriso, un mezzo sorriso e poi tre giorni dopo tu ti rivedi in baratro, ma siamo a più uno dai lecce, ragazzi, ma siamo ai più uno dai lecce di Malè, ma dai, ma ven via, ma ven via, ma ven via, continuiamo a prendere il culo da Juve, ma continuiamo, intanto ci rimane questo, continuiamo, perché è questa la nostra dimensione, guarda che fanno quegli altri, poi ci si guarda in casa e si fa ridere, perché oggi si è fatto ridere, ridere. Vabbè, vabbè, meno male, guarda, oggi lavoravo anche, che l'ho vista un po' a morse e bocconi, non me la sono goduta appieno questa eccellente prestazione. E il bello è che non ho nemmeno sentito troppi fischi alla fine della partita, non l'ho sentito, ok? Perché la gente presa dai rimorso dice che faccio fischi una squadra e comunque il semifinale Coppa Italia, sì, sì, la fischi, la fischi, perché in campionato si fa ridere, quindi la fischi, perché in Coppa Italia ti ho avuto una strada spianata, spianata, quindi la fischi. E io sarei, l'avrei fischiata ragazzi. Io tra l'altro sono sempre stato molto anche cauto, no? Però quest'anno si è fatto ridere, ridere. Visto che si fa un po' le somme di come vanno primavera, donne, prima squadra, ti dico, gli unici, mi danno sorrisi, sono la primavera, gli unici. Gli unici veramente sono degni, degni del nome Fiorentina sul petto, è la primavera, che mi ha portato cinque trofei. Nonostante tutti gli anni cambino, si rinnovino, mister Aquilani ecco, è uno che ha due palle così, ha due palle così. Quindi vediamo, andiamo avanti e vedremo. Perché anche mister Aquilani, io già comincio a avercelo come pulcetta nell'orecchio, mi comincio a garbucchiare parecchio. Vabbè dai, basta. Grazie, ti ho preso dalla frustrazione, dal fatto che ho dormito poco e poi ho lavorato anche di domenica, quindi vedere anche la Fiorentina in queste condizioni mi fa ancora più girare le scatole. Vabbè, forza Viola, tanto JM, perché tanto siamo ridotto a questo.